Ciao a tutti i vederosi, benvenuti all'appuntamento con la nostra veterinaria dell'auto in compagnia di Rezzonico Auto e questa volta parleremo di Fiat. Fiat la trovate sia nella sede di Cerro Maggiore che di Arconate mentre Rezzonico, lo sapete, si trova anche con una sede a Saronno. Oggi parliamo insieme a Mario, Vittorio Noncello, salutiamo naturalmente, la prossima puntata lo ritroveremo. Di cosa parliamo Mario? Ciao a tutti e benvenuti. Allora, cominciamo subito alla grande perché ricordo solamente che gli incentivi statali non sono ancora finiti. Quindi partiamo la grandissima con le vetture nuove ma con una grandissima novità. Andiamo subito a vederla. Ed eccola la novità, la nuova Pandina, la panda più tecnologica di sempre. Pensate, è una vettura con gli ADAS di livello 2. Frenata automatica di emergenza, stanchezza guidatore, avviso di superamento dei limiti di carreggiata, limitatore di velocità, cruise control, una vettura fantastica, sicura, ha il cluster digitale centrale, un monitor centrale appunto tutto digitale e l'Android Auto. CarPlay o Android Auto per collegare il tuo telefonino appunto per vedere il navigatore attraverso il monitor con il cavetto. Questa vettura presenta anche come optional cerchi in lega, 5 posti, vetti posteri oscurati, mancorrenti al tetto, una vettura fantastica. 3,70 m, l'auto per tutta la famiglia. Essendo un 1000 Hybrid può essere guidato anche da un neopatentato. L'auto più venduta in Europa da sempre. Nuova Pandina, nella versione punto 5 porte 5 posti, oppure possiamo passare anche nella versione, tra virgolette, nella versione di ingresso, la Panda base. 1000 Hybrid anche questa, anche questa qui nuova con tutta la sua tecnologia di sicurezza e il monitor centrale digitale. Quindi l'auto più tecnologica di sempre, la Panda più tecnologica di sempre. Venite a vederla e provarla da Rezzonico Auto, Cerro Maggiore ed Arconate. Ma passiamo all'offerta perché è veramente incredibile. Grazie agli incentivi statali, lo sconto Rezzonico Auto e se aderite al finanziamento Fiat+, Panda è vostra a partire da 9.950 euro e rate a partire da 145 euro con anticipo zero. Che aspettate? Venite, corrette tra Rezzonico Auto perché l'offerta è limitata. Vi aspettiamo, proseguiamo con la serata. E proseguiamo appunto con la reginetta di casa Fiat, Fiat 500. Questa sera vi parlo di questo allestimento particolare, la collezione 1957. Come potete ben vedere è una vettura cabrio col tetto apribile elettricamente, l'interno in pelle traforata, il cruscotto con la plancia di legno, una vettura fantastica con climatizzatore automatico, bicolore con verde rugiada in contrasto con il cofano bianco e le finiture bianche, tutte le sue belle cromature, i cerchi in lega, il volante multifunzioni, Android Auto CarPlay per collegare il tuo telefonino con Android Auto o CarPlay, tramite il cavetto vedete il vostro navigatore. Una vettura da venire a vedere e provare da Rezzonico Auto perché è veramente edizione limitatissima, ce ne sono poche, per noi è veramente l'ultima. Disponibile nuova o anche chilometri zero. Pensate che questa vettura arriva fino a 6.000 euro di sconto se avete un'auto da ruotamare con incentivi satali. Parliamo di 500 hatchback, la 500 normale, la versione 1000 hybrid, benzina, 6 marce, la versione base di ingresso che grazie agli incentivi satali, contributo a ruotamazione Rezzonico Auto e finanziamento Fiat Plus è vostra a soli 10.950 euro. Pensate con rate da 149 euro a mese e cosa dire di più? Anticipo zero. Venite a vedere e provare da Rezzonico Auto la 500 per il vostro figlio, per la vostra famiglia. Una vettura veramente sul mercato da anni ed è la regginetta di casa Fiat. Proseguiamo con la serata. E la serata prosegue con la nuova 500, la nuova 500 full electric. Pensate, due allestimenti, due pacchi di batterie, 24 kilowatt e 32 kilowatt. In base al vostro uso quotidiano. Questa vettura bellissima, rose gold, con il display 10 pollici Android Auto CarPlay. Climatizzatore automatico, tre modalità di guida. Una vettura veramente fantastica da guidare perché è zero emissioni, zero vibrazioni, zero odori. Una vettura da venire, vedere e provare da Rezzonico Auto a Cerro Maggiore e da Arconate. 3,70 metri, una vettura fantastica, silenziosissima. Potete caricarla tranquillamente a casa con la presa asciuco, nelle varie colonine che trovate in giro, nelle varie stazioni di rifornimento, nei vari parcheggi. Oppure con la fast charge, la carica rapida. L'80% lo ricarica circa in 25-30 minuti. È assolutamente da provare. Passiamo all'offerta perché è pazzesca. Leasing a tasso agevolato al 3,99. Questa vettura è vostra a 299 euro al mese. E tra tre anni decidete voi, potete anche restituirla. Ti aspettiamo da Rezzonico Auto, Cerro Maggiore e Arconate, per una prova su strada. Fissate il vostro test drive al numero 0331 519150 oppure sul sito rezzonicoauto.it. Proseguiamo con la serata. Dalla 500 facciamo un salto, un 100 in più, arriviamo alla nuova 600. Eccola qua, color sabbia, una vettura fantastica. Solamente 4,17 metri. Sicurezza, sicurezza massima Fiat, livello ADAS 2. Riconoscimento pedoni con frenata automatica, stanchezza guidatore, mantenimento di corsia. Android Auto CarPlay, cluster digitale appunto con il tuo computerino tutto digitale all'interno. Questa vettura presenta anche i cerchi in lega con l'interno misto pelle e tessuto. È un pacchetto che abbiamo messo noi. Sensori di parcheggio posteriori. È un 1200 hybrid, 100 cavalli, turbo, 48 volt. Quindi naturalmente è un cambio automatico con le palette al volante. Quindi guidate tranquillamente in tutta autonomia a una vettura ibrida. Pensate all'offerta perché è veramente pazzesca. Grazie agli incentivi statali, lo sconto rezzonico auto e lo sconto finanziamento Fiat+. Questa vettura è vostra a partire da soli 18.950 euro. Pensate signori, una vettura così con soli 18.950 euro e 35 canoni da soli 241 euro. Che aspettare, correte da rezzonico auto perché questa offerta è veramente limitata. Ricordo solamente che è con incentivo statale e rotamazione. La stessa vettura, la Fiat 600, c'è anche nella versione full electric. Pacco batterie da 51 kilowatt. Autonomia si parla intorno ai 400 chilometri ma potrebbe fare anche qualcosa in più. L'offerta è strepitosa. Grazie a un leasing a tasso agevolato al 3.99. La Fiat 600 elettrica è vostra a 349 euro al mese. Venite sempre a vederla e provarla. Da rezzonico auto c'era maggiore Arconate perché è da provare. La vettura elettrica è da provare. Potete andare in zona area B di Milano, in area C.2 ci troviamo noi. Una vettura fantastica. Ed eccoci davanti all'ammiraglia di casa Fiat. L'auto per tutta la famiglia. Fiat tipo Station Wagon. L'auto in pronta consegna addirittura per le tue vacanze. Ci siamo, siamo alle porte, c'è gente che è già partita. Ma tu che devi ancora partire, vieni da rezzonico auto c'era maggiore Arconate e acquista la tua nuova Fiat tipo Station Wagon. Turbo Diesel, cerchi in lega, Android Auto CarPlay. Puoi collegare il tuo telefono appunto per vedere il navigatore attraverso il monitor. Questa vettura presenta anche clima automatico. Sistemi ADAS di livello 2, dunque rilevamento pedoni con frenata automatica, stanchezza guidatore, mantenimento di corsia, assistenza di salita, ABS e SP. Tutta la sicurezza di casa Fiat. Una vettura fantastica, comoda, spaziosa, interni in sedili con monogramma Fiat. Sei marce, venite a vederla e provarla da rezzonico auto, c'era maggiore ed Arconate. Abbiamo disponibilità in pronta consegna appunto di Fiat tipo Station Wagon. Nella versione abbiamo anche la 5 porte Cross 1500 A i 130 CV. Quindi si parla di un motore con cambio automatico e palette al volante. Ma la grossa novità del mese è che c'è Fiat tipo Sedan. La vettura tre volumi, quella per intenderci quella col sedere. Una vettura fantastica ma l'offerta è strepitosa. Grazie agli incentivi satali e lo sconto rezzonico auto, sconto rottamazione, Fiat tipo Sedan è vostra a un prezzo incredibile. 12.950 euro. Venite se non ci credete. Da rezzonico auto c'era maggiore Arconate. Vi aspettiamo ed eccoci a fianco della nuova Fiat Topolino. L'auto guidabile veramente per tutta la famiglia, anche per tuo figlio che ha solo 14 anni. Basta che faccia il patentino. Questa vettura, appunto un quadriciclo, è come uno scooter. 50 km orari di velocità, 75 km di autonomia. Potete caricarla tranquillamente da casa nel vostro box con una presa a sciuco, già in dotazione sulla vettura. Prezzo solamente 9.800 euro. Con eco incentivi satali questa vettura è vostra a 7.550 euro. E non finisce qui, perché con eco incentivi satali e un quadriciclo da rottamare, Fiat Topolino è vostra a soli 6.750 euro. Vi aspettiamo. Da rezzonico auto c'era maggiore Arconate. Passiamo ora ad Abarth. Come vedete nelle immagini, questa bellissima Abarth 695 1.4 180 cavalli. Una vettura fantastica. Per gli amanti dell'Abarth è la vettura ideale. Da rezzonico auto la trovate in pronta consegna. E trovate da rezzonico anche la collezione 1975. Quindi venite a vederla da rezzonico auto, c'era maggiore Ed Arconate. La tua nuova Fiat Abarth. Pensate all'offerta perché è incredibile. È tua a soli 249 euro al mese per 48 mesi. Poi scegli se rifinanziarla, restituirla o scambiarla. A voi la scelta è da 48 mesi. Abarth non finisce qui, perché Abarth anche parla di elettrico. Quindi questa Abarth che vediamo qui di fianco a me, Acid Green, è vostra a partire da 129 euro al mese. Vi aspettiamo presto. Ed ecco, rezzonico auto non è solo nuovo ma è anche chilometri zero. Abbiamo alcune Panda, come potete ben vedere, questo bellissimo azzurro, bianco. Ne abbiamo altre disponibilità. A soli 13.900 euro. Per chi non ha un'auto da ruota mare, per chi non può usufruire di incentivi statali, questa è l'auto ideale. Fiat Panda, chilometri zero, 13.900 euro. Proseguiamo ora con la Fiat Tipo Cross 1.6 Multijet, 130 cavalli. Appunto Cross con effetto off-road, cerchi in lega, clima automatico. Una vettura fantastica, pensate che costa oltre 35.000 euro. Ve la proponiamo a soli 26.900 euro. Venite a vederla perché è fantastica da guidare. Proseguiamo ora con Fiat 500.000 Ivory guidabile neopatentati. Abbiamo diverse colorazioni. E' vostra a partire da 15.500 euro. 1.000 Ivory, 6 marce, anche per neopatentati e naturalmente in pronta consegna. Se non avete un'auto da ruota mare, non avete incentivi, è l'auto ideale. Passiamo ora a 500X. Dolce Vita, 1.500 Ivory, 130 cavalli. Tetto in canvas, aprile elettrico. L'interno è misto pelle e tessuto. Una vettura fantastica, spaziosa per tutta la famiglia. Questa vettura è vostra a soli 27.900 euro. Vi ricordo anche che Rezzonico Auto è concessionario Fiat Professional. E Rosi, che dire, salutiamo tutti e auguriamo a tutti una buona estate. Assolutamente sì, buona estate, buone vacanze con una vettura naturalmente targata Rezzonico Auto. Grazie, ciao! Alla prossima, ciao!